Chi dice che non puoi essere te stesso e seguire il tuo ritmo? Chi dice che non puoi andare oltre le aspettative e alzare il livello ancora una volta? Con Travel Assist, Digital Cockpit e Fari LED Matrix. Questa è la nuova Polo. Who says you can't? Da 129 euro al mese. Tantre 99, Taeg 545. Volkswagen. Grazie.